Riparte l'intera rete tramviaria della città. Lo scorso anno abbiamo attivato la linea 1, adesso riattiviamo le linee 2 e 4, quindi la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Municipio e la linea di collegamento di San Giovanni con Piazza Nazionale. Dei servizi molto importanti, noi abbiamo una flotta tramviaria molto nutrita, abbiamo 36 tram complessivamente, di questi ne metteremo in circolazione circa la metà nell'arco di un mese o un mese e mezzo per offrire un servizio sempre migliore sulla direttrice di adduzione dal bacino orientale verso il centro. Sulla frequenza della direttrice costiera 10 minuti, la frequenza diversamente della linea da San Giovanni a Piazza Nazionale intorno ai 20 minuti. Con una corsa inaugurale sono state riattivate oggi la linea 2 del tram che da San Giovanni conduce a Piazza Nazionale e la linea 4 da Corso San Giovanni a Via Cristoforo Colombo. La presentazione è al deposito di San Giovanni a Teduccio, dove oltre al tram sirio sono presenti anche i vecchi tram che in questi due anni sono stati ristrutturati. È un risultato complicato, non facile ma importante che dà il segno di quanto sia viva questa azienda, a cui non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto e mai lo faremo mancare. Ma soprattutto è un servizio che ritorna ai cittadini, che sentivano la mancanza del servizio che andava da San Giovanni a Municipio e da San Giovanni a Piazza Nazionale. Un altro risultato importante è il cui seguirà quello del filobus da qui a qualche giorno, quindi siamo soddisfatti e ci tenevo a venire qui per rappresentare il mio ringraziamento all'azienda, alla dirigenza, alle lavoratrici e ai lavoratori di ANM.